Musica Benvenuti al nostro TG Sport cari amici di Telemolise. In apertura vogliamo fare gli auguri a Maria Delia Zita e a Michele De Michele che proprio ieri hanno assaporato la grandissima gioia della nascita della piccola Federica venuta alla luce presso l'ospedale Cardarelli di Campobasso. A Maria Delia e Michele, ai nonni Grazia e Sergio Zita, quest'ultimo medico sociale del Campobasso ai tempi d'oro della Serie B e mio grandissimo amico. Agli altri nonni Giuseppina e Paolo De Michele vanno le felicitazioni più sincere e affettuose da parte mia e da parte di tutta la redazione sportiva di Telemolise che la piccola Federica De Michele possa avere tantissima fortuna e possa realizzare tutti i sogni che riuscirà a concretizzare nella sua esistenza. Federica che è venuta alla luce ieri, quindi insomma ci auguriamo che possa avere tutto il bene possibile. Basket femminile di Serie A2 parte domani la post-season per la Molisana Campobasso alle 18 impegnata sul parquet di Bologna per i quarti play-off. Al via la fase play-off per la Molisana Basket Campobasso con lo start del percorso nel tabellone da ottava nella regular season e settima della entry list. Si parte sul parquet del Bologna, formazione che ha chiuso la regular season al terzo posto, seconda nella griglia play-off. Palla 2 è prevista domani a partire dalle 18 con arbitri di fuori regione Antonio Giuseppe Giordano di Gela e Sara Sciliberto di Messina. Le due formazioni si sono già incontrate in campionato. I fiori d'acciaio hanno dovuto cedere per 74 a 40 in casa della formazione emiliana, riscattando il risultato poi in occasione del ritorno, quando dopo una bella partita senza esclusione di colpi, le Rosso-Blu l'hanno spuntata con un solo punto di scarto, 49 a 48 al Palavazzieri. Il coach delle Magnolie si dice molto soddisfatto dei risultati raggiunti ed è già proiettato alla gara di domani. Il team del capoluogo gode di ottima salute ed è nel miglior stato di forma di tutta la stagione, non solo fisico ma anche mentale. Di Gregorio e Co sono pronti a portare sul parquet di Bologna tutto il cuore e la grinta di sempre. Il team Rosso-Blu spiega Sabatelli, complice dell'attuale formula e l'ottava posizione raggiunta al termine della regular season, potrebbe disputare lontano dal Molise tutte le fasi della post-season del proprio girone. La vincitrice di Bologna, la molisana basket Campobasso, andrà ad affrontare in semifinale la vincitrice San Giovanni Valdarno-Faenza. Gli altri accoppiamenti play-off saranno Palermo-Orvieto e Civitanova-Marche-Spezzina. Campionato di Cisilver, l'Aerino Basket Termoli ieri ha battuto tra le muramiche del Palas Abbetta il Chieti in gara 2 ed ha allungato la serie. 70-59 il finale in favore dei Termolesi. Domenica gara 3 in Abruzzo che deciderà una delle finaliste del campionato di Cisilver Abruzzo-Molise per la stagione in corso. Calcio di Serie D, testa all'ultima di campionato per Olimpia, Agnonese e Campobasso. Al Civitelle, gara decisiva per decidere la stagione. Il Campobasso si conceda da questo campionato al Selvapiana. Ultimi 90 minuti in Serie D, Girone F, con una serie di verdetti ancora da emettere, tra i quali il più importante, cioè la promozione in Lega Pro, sarà una fra Matelica e Pesaro a salire nei professionisti. La tendenza potrebbe vedere la nuova capolista Matelica, favorita per il punto di vantaggio, ma l'avversario Avezzano in trasferta è sicuramente più complesso rispetto all'impegno che attende il Pesaro, cioè l'esterna a Castelfidardo. Entrambe fuori casa, le prime due con il dubbio su chi arriverà prima, lecito, visto che le due marchigiane si sono contese il primato non proprio in maniera pugnace. Detto questo, c'è pure da registrare come la griglia playoff sia già bella e definita. Stupisce come ne sia uscita la vastese, che è stata anche prima per qualche settimana nel girone di andata. Costante il ritmo avuto dall'Avezzano, che sembra possa anche nutrire velletà di ripescaggio in Lega Pro, secondo i bene informati da Bruzzo. Sorpresa in positivo è stato anche il Pineto, che è partito per salvarsi. E senza nomi di grido si ritrova a giocare la competizione di fine campionato. Mentre discorso diverso vale per l'Aquila, che avrebbe potuto fare decisamente meglio con una società solida alle spalle. Anzi, ha fatto un ottimo campionato, considerate le gravi problematiche societarie. Delle due molisane, solo una attende un verdetto, cioè l'Olimpia agnonese di Di Meo. Il campo basso è già proiettato con la testa al futuro immediato, cioè quello squisitamente societario, piuttosto che calcistico. Sembra che ci si avvii verso un'altra estate abbastanza rovente. La società Rosso Blu dei co-presidenti De Lucia e Leone potrebbe anche tenere una conferenza stampa al termine della partita contro la Jesina, per svelare intenzioni e progetti relativi alla prossima stagione. Attesa dunque, soprattutto per quest'ultimo aspetto, piuttosto che per l'esito di una partita che non riveste significato alcuno per la classifica. Con questo non vogliamo intendere che il campo basso si presenterà in tono dimesso domenica pomeriggio a Selvapiana. Nei rosso-blu fuori per infortunio Salim Ribeiro e Gerardi. Gli stessi che hanno dato forfè anche al Benelli, quanto a Gerardi ha giocato l'ultima gara contro il Pineto, prima di un fastidio al tallone che lo tormenta tuttora. La Jesina da par suo avrà la mente rivolta alla squadra che potrà essere sua avversaria nei play-out, cioè una fra Agnone o San Nicolò. Gli anconetani non potranno disporre dell'attaccante simbolo, cioè Trudeau, la cui squalifica lo preserva, in un certo senso in vista dello spareggio salvezza da giocare il prossimo 20 maggio. Ad Agnone Di Meo studia soluzioni per sopperire all'assenza dello squalificato Ceria, che domenica scorsa ha giocato con la maglia numero 11 sul campo dei Nero Stellati. Il giocatore più accreditato per la sostituzione potrebbe essere De Stefano, autore del pareggio proprio in Abruzzo. Squadra e società dell'Agnone chiedono soprattutto ai tifosi e all'ambiente di caricare al massimo i giocatori. Domenica pomeriggio le presenze dovranno essere massicce sugli spalti del Civitelle per spingere l'Olimpia alla vittoria e contestualmente sperare in una sventura calcistica per il San Nicolò impegnato a San Marino. Ad ogni modo non bisognerà commettere l'errore, probabilmente fatto contro l'ultima della classe, di considerare la partita facile, dunque già vinta. Di fronte ci sarà un avversario come la Sangiustese, neopromosso in Serie D, ma che non ha mai rischiato di cadere nel precipizio dei play-out. In sostanza è proprio quello del Civitelle, l'ultimo verdetto ancora da emettere per la bassa classifica, oltre alla retrocessione del Monticelli, che proprio domenica potrebbe essere matematica. Calcio giovanile domani alle 16. Il campo neutro di Trivento ospiterà la finale del campionato regionale Juniores in campo Boiano-Sesto Campano. Con l'ora al termine dei 90 minuti regolamentari si verificasse una situazione di parità. Si procederà alla disputa di due tempi supplementari di 15 minuti ciascuno. In caso di ulteriore parità si provvetterà ad effettuare 5 tiri di rigore. Perdurando la situazione di parità si procederà con i calci di rigore ad oltranza. La squadra che si aggiudicherà la fase regionale del campionato regionale Juniores si qualificherà alla fase nazionale della competizione, che prenderà il via sabato 12 maggio, con le gare della prima giornata degli ottavi di finale. Torneo 3 contro 3 archiviata Premier League e Liga è tempo di coppe per il torneo di street soccer. Chiuso il campionato è tempo delle coppe europee per il torneo di apertura street soccer 3 contro 3. Lunedì sera il via alle competizioni al Pala Unimol a partire dalle 20 e 15. Quattro gare di Europa League e quattro di Champions, con le griglie composte in base alla classifica finale dei rispettivi campionati Liga e Premier. Sicuramente momento più bello della stagione dove si vanno ad affrontare le migliori squadre con la curiosità, finalmente a questo punto, delle sfide tra campionati incrociati. Durante la stagione diversi gli sfottò e le dichiarazioni goliardiche sulla superiorità di un campionato rispetto all'altro. Ecco, il momento è giunto per poter finalmente aggiungere qualche dato numerico ad una serie di voci da bar dello sport. Partiamo dalla Champions League. Le due vincenti, Real Madrid e Manchester City, giocano contro le quarte classificate. I Blancos di Andrea Ricci, pronti ad affrontare il Leicester di Francesco Cornacchione. Ovviamente favori sulla carta per il Real Madrid, con il Leicester che non vuole assolutamente lasciare la manifestazione in modo scontato. Il Manchester City se la vedrà contro il Betis. Il team dei fratelli di Lella si è ben comportato nella Liga dimostrando ottima capacità difensiva. La prova sarà probante contro il City imbattuto. Certo, nelle gare secche può succedere sempre di tutto e le sorprese in generale sono dietro l'angolo. Il Getafe, secondo a sorprese in Liga, gioca contro il Manchester United. Match che vede gli spagnoli in vantaggio sulla carta. I Red Devils pagano le assenze di Vitone e Petraroia infortunati, ma sono pronti a giocare al massimo per accedere alla semifinale. Big match indiscusso della giornata, quello tra il Chelsea e il Barcellona. Sfida che si preannuncia davvero spettacolare. Catalani pronti a riscattare un finale di stagione non positivo. Blues con l'obiettivo di riscattare la rimonta subita dal City nella gara a scudetto. Insomma, occhi puntati su questa partita, sicuramente il fiore all'occhiello dell'intera giornata. Battaglia serrata in Europa League, sicuramente la competizione dove regna maggiore incertezza. Non ci sono favorite e ogni gara si preannuncia più combattuta che mai. Ancora subiudice la classifica. Si deve recuperare il match tra Valencia e la Spalmans, non disputato per via di un lutto che ha colpito i bianchi guidati da Emilio Cocca. L'organizzazione è a lavoro per garantire la regolarità, altrimenti sarà confermata la classifica finale. In base a questa situazione sono solo due le sfide certe, sempre con gare secche ad eliminazione diretta. Villarreal contro West Ham con il sottomarino giallo favorito, anche per aver raggiunto un traguardo importante, ovvero miglior difesa di tutti i campionati. Celtavigo Tottenham anche qui con i favori dei pronostici per la squadra spagnola che ha tutte le intenzioni di accedere alle semifinali di Europa League. Restano in attesa della composizione ufficiale della griglia le già qualificate Liverpool, De Fratelli Coretto, Watford, i giovani terribili di Maurizio Vaino e l'esperto atletico Madrid con un'Andrea Cioccia in più. Da verificare se sarà il Valencia a chiudere la griglia oppure il Siviglia. Dunque appuntamento a lunedì sera per la terz'ultima serata del torneo 3 contro 3 street soccer, atteso più che mai spettacolo. Calcio giovanile, questo weekend torna l'appuntamento con il torneo Deco organizzato dalla Scuola Calcio Santi Pietro e Paolo di Termoli. Da domani in campo il Benevento, Perugia, Pescara, Ascoli, Picchio e Renato Curi. Oltre ai padroni di casa, il torneo aperto alla categoria esordienti. Nuoto si è messa in evidenza l'H2 Sport al 17esimo meeting esordienti città di Ravenna, uno degli appuntamenti clou a livello nazionale in vasca da 50 metri. La società molisana si è classificata al settimo posto in classifica generale con 92,50 punti in un parterre di società provenienti da Veneto, Friuli, Toscana, Marche, Lazio e Umbria e che ha visto primeggiare la Triestina. Nuoto, prossimo appuntamento è per questo fine settimana sempre a Ravenna dove la società sarà impegnata al meeting nazionale Zaccaria con le categorie ragazzi, juniors e cadetti. Calcio a 5 di Serie B, anche in questa stagione la polisportiva Chaminade è stata impegnata tra prima squadra e settore giovanile. Walter Brandoni, dunque, diciamo che siete arrivati ad un soffio dall'accarezzare il sogno della finale play-off in finale va il Sagittario Pratola, ma ve la siete giocata al meglio? Sì, assolutamente, siamo arrivati fino in fondo e il risultato è buciardo, no? Io dico che questo sport è l'unica cosa che non mi piace che si può fare gol di porta a porta però i ragazzi hanno dato tutto io penso che siamo stati a un gol però sono contentissimo di come abbiamo chiuso il campionato. Assolutamente, poi l'avete fatto nel migliore dei modi anche dal tuo punto di vista come preparatore credo che ci sia da essere soddisfatti perché la squadra è stata praticamente reattiva probabilmente, l'ho detto un paio di settimane fa è arrivata nel momento decisivo nelle migliori condizioni. Sì, siamo arrivati un po' per pianificazione un altro per tutte le partite che abbiamo fatto il volume di partite è stato altissimo quindi quello ci ha dato ancora un po' più di ritmo di partita dopo lo scarico, diciamo, quando abbiamo affrontato quel volume di partite siamo stati un po' più freschi però la squadra l'ho vista bene abbiamo fatto un bel anno insieme sono contento dal punto di vista professionale e da parte di umano perché il gruppo e la società veramente ci hanno messo tutto a disposizione per essere arrivato fin qui. Certo, mi hai dato uno spunto perché non solo campionato ma ricordiamo che la Ciaminadi è arrivata anche agli ottavi della Coppa di Divisione anche ad un soffio dalla Final 8 di Coppa Italia quindi davvero tante gare. Sì, veramente c'è stato un successo da questo punto di vista perché era pianificato e organizzato il poter fare delle cose serie possiamo parlare più di obiettivi però la società ci ha chiesto di dare il tutto ogni partita e partita dopo partita penso che abbiamo dato di più delle aspettative quindi ringrazio a questo gruppo che è stato un gruppo veramente spettacolare e aspettiamo di ripetere queste esperienze. Campionato d'eccellenza domani alle 15 in campo per il play-out Talife-Spinete in caso di parità dopo i tempi regolamentari sono previsti due tempi supplementari di 15 minuti ciascuno e persistendo la parità retrocederà in promozione la squadra peggio classificata al termine della stagione regolare nel caso lo Spinete in promozione domenica è previsto il play-off tra Roseto ed Ururi e il play-out tra Ferrazzano e Carovilli anche per queste gare vale lo stesso regolamento a proposito dell'Ururi stagione importante per una delle matricole di promozione Giovanni Di Lullo dirigente sportivo dell'Ururi era già automaticamente nei play-off però insomma questa partita in casa forse contro il pietramento di Corvino doveva essere vinta ma insomma diciamo che avremmo voluto chiudere il campionato con una vittoria sarebbe stato motivo d'orgoglio perché abbiamo vinto tutte le gare in casa al ritorno quindi abbiamo chiuso il campionato con due sconfitte un pareggio sarebbe stato un orgoglio per noi magari riuscire a fare solo stato utile sarebbe stato il decimo consecutivo però la squadra del Piedra Monte Corvino che meritatamente ha raggiunto l'obiettivo dell'eccellenza ha una bellissima squadra Massima concentrazione dunque ora per i play-off ma quando avete iniziato a crederci? Ma diciamo che ci abbiamo creduto pensando partita dopo partita vedendo gli ottimi risultati che la squadra è riuscita a fare soprattutto nel girone di ritorno siamo partiti onestamente col voler fare un campionato tranquillo e raggiungere il prima possibile la salvezza da neopromossa poi insomma soprattutto in casa ripeto al ritorno abbiamo vinto praticamente tutte le partite e questo ci ha proiettato in una zona più interessante della classifica che è quella dei play-off che credo di poter dire senza problemi che abbiamo meritatamente raggiunto già la scorsa settimana quindi adesso testa Roseto la prossima partita sarà una gara difficile con una buona squadra un'ottima squadra ce la giocheremo come abbiamo sempre fatto tutte le nostre partite vinca il migliore insomma come è partito l'Ururi inizialmente come è arrivato l'abbiamo e lo abbiamo già detto sì dicevo è partito con un gruppo consolidato che ha ottenuto meritatamente alla grande l'anno scorso la vittoria del campionato di prima categoria gli stessi ragazzi molti del posto tutti confermati in blocco con qualche innesto uno su tutti Antonio Gaggiano che ha un'eterna giovinezza insomma il capocannoniere gli faccio gli auguri meritatissimi perché è riuscito a fare il capocannoniere in questo bel campionato ha superato se non erro 34-35 gol alla sua età insomma è un grosso traguardo quindi con lui e con qualche altro nuovo arrivo insomma le abbiamo puntellato una squadra già forte di per sé dell'anno scorso e ripeto eravamo partiti per salvarci tranquillamente credo che abbiamo meritatamente raggiunto un obiettivo più alto che quello dei play-off per la Frentania stagione decisamente positiva la formazione di Serra Capriola ben figurato nel suo primo campionato in eccellenza Raffaele Pagano attaccante della Frentania si chiude qui questo campionato a Spinete possiamo dirlo forse la vera risultante a fare la differenza è stato proprio il piano emotivo quello delle motivazioni perché voi eravate già salvi lo Spinete comunque servivano punti per la permanenza in categoria anche un po' il caldo anche la mancanza di allenamento ci siamo allenati solo una volta a settimana quindi abbiamo mollato un po' la presa alla fine anche se non dovevamo però abbiamo fatto giocare un po' chi ha giocato di meno è andata così ogni partita è una storia ecco abbiamo visto è stato comunque un buon cammino il vostro ne parlavamo anche con Mr. Tang una salvezza 38 punti di tutto rispetto il bilancio può essere positivo forse si poteva fare qualcosa in più sì visto che eravamo già salvi abbiamo detto che dovevamo raggiungere 40 punti ci siamo posti in un altro obiettivo invece se abbiamo raggiunto 38 va bene lo stesso l'importante è la salvezza abbiamo visto delle squadre magari di alta quota quale ti ha impressionato se andiamo a vedere Lisernia ha vinto il campionato tra Lisernia e Vasto Girardi chi vedevi i favoriti Lisernia ha un sacco di nomi quindi è anche giusto che va in merito loro del campionato però la scuola che mi ha sorpreso di più diciamo è il Vasto Girardi mi è piaciuto di più rispetto alle due favorite per quanto riguarda invece tornando alla Frentania per la prossima stagione le tue intenzioni magari sono di restare oppure di risposare il progetto penso di restare poi non lo so poi si vedrà si vedrà dopo aver parlato vedremo cosa fare tornando in promozione l'FC Molise ha archiviato la stagione con una salvezza diretta Carlo Cioffi dell'FC Molise sconfitto per 5-4 in casa con la Gliternina molte assenze chiaramente partita tipica di fine stagione ma peccato per Bangura perché è andato davvero vicinissimo all'obiettivo e un plauso anche a voi squadra che ce l'avete messa comunque tutta sì infatti il mister da inizio ci ha chiesto di farle il capogoniere a Bangura ce l'abbiamo messa tutta ma ha fatto tre gol e quindi è stata abbiamo fatto un'ottima partita anche se abbiamo peccato un po' in fase difensiva ma alla fine credo che 5-4 è il risultato giusto ripercorrendo un po' il campionato il girone di ritorno è nettamente migliore rispetto all'andata ma in generale dov'è che sono i maggiori rimpianti per una squadra che forse a un certo punto poteva puntare più della salvezza diretta infatti questo è stato il rammarico della stagione perché da gennaio in poi abbiamo iniziato a cambiare marcia quindi con il mister Del Riccio che è venuto a darci una mano abbiamo iniziato a fare molti punti dopo un po' quando abbiamo capito che i playoff non erano più raggiungibili ci siamo un po' più calmati diciamo quindi la stagione l'obiettivo è diventato la salvezza e ci abbiamo messa tutta e l'abbiamo raggiunta questo è stato il nostro obiettivo quindi salvezza acquisita adesso da dove si riparte a livello personale pensi ancora di restare in questo gruppo oppure agli altri obiettivi no no io spero che l'anno prossimo di ritornare in questa squadra perché mi sono trovato molto bene soprattutto con il mister e con il direttore che sono grandi uomini e speriamo che l'anno prossimo l'obiettivo sarei playoff oppure quantomeno di provare ad andare in eccellenza squadra giovane ma competitiva per il Baranello bilancio positivo a fine campionato Michele Barone il Baranello non aveva più nulla da chiedere a questo campionato in quest'ultima partita ha giocato un po' più rilassato è arrivato a una sconfitta 4 a 1 ma non fa alcuna differenza sì diciamo che noi siamo venuti qui comunque per onorare il campionato però loro avevano più motivazioni e si è visto sul campo credo che loro hanno meritato la vittoria che partita è stata questa secondo te ma è stata una partita diciamo che loro hanno dominato quasi tutta la partita e credo che le loro motivazioni sono state pagate con il giusto risultato l'espulsione di Niro invece al ventesimo del secondo tempo ma credo che lì l'arbitro abbia un po' esagerato anche perché sul 4 a 0 stavamo l'ultima partita di campionato poteva anche risparmiarlo però non so cosa gli ha detto quindi credo che poteva risparmiarsela contenti insomma del cammino che avete fatto quest'anno sì sì siamo contenti per esserci salvati e credo che abbiamo fatto un buon campionato Antonello Niro dispiace chiudere il campionato con un'espulsione al ventesimo del secondo tempo ma che cosa è successo? ma veramente non è successo niente di che una condizione a favore nostro io ho battuto velocemente l'arbitro gli siamo fatti un po' il protagonista in sua situazione è stata una partita tranquillissima zero falli zero gialli poi non lo so vabbè gli ho detto una parolina di troppo però poteva un po' sorvolare diciamo visto che era l'ultima partita che cammino è stato questo del Baranello? beh è stato un percorso dove abbiamo avuto il campionato la prima parte della stagione poi alla fine siamo riusciti a salvarci però non eravamo partiti per la salvezza volevamo puntare a meno ai playoff dopo due anni di playoff però alla fine sono state mancate un po' le forze la rosa era quella che era eravamo 14-15 persone abbiamo fatto il massimo ripartiremo già l'anno prossimo domenica 13 maggio quindi non dopo domani ma il 13 maggio perché è stata posticipata è in programma l'evento vivere e far vivere il Matese manifestazione organizzata dalla Proloco di Rocca Mandolfi alle 8 la registrazione dei partecipanti alle 9 l'inizio attività intorno alle 17 è prevista la chiusura bene è tutto per questa edizione del nostro TG Sport buon pomeriggio a c'è l'anima